Sono 39 gli imputati del procedimento penale mandamento ionico ammessi al rito abbreviato dal gruppi distrettuale regino Filippo Aragona e quanto emerge dall'ultima udienza preliminare del maxiprocesso in corso all'aula bunker di Reggio Calabria a carico di oltre 200 imputati accusati a vario titolo e con modalità differenti di reati che vanno dalla partecipazione all'associazione mafiosa unitaria denominata Andrangheta alla turbativa d'asta all'illecita concorrenza con violenza e minaccia alla fittizia e intestazione di beni, riciclaggio ed altro. Per gli imputati interessati al rito abbreviato il processo è stato rinviato dopo l'estate quando si procederà anche alla discussione delle parti compresse i difensori che compongono il nutrito collegio legale composto fra gli altri dagli avvocati Veneto, Nobile, Furfaro, Cianferoni, Managò, Scarfò, Piccolo, Alvaro, Speziale, Febbraio, Taddei, Iemma, Pipicella, Flocari, Iaria e Minniti. Per quanto riguarda la definizione dell'udienza preliminare per gli altri imputati interessati il gruppo deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Locri già formulata dai magistrati della DDA Regina all'udienza prevista per venerdì 22 giugno salvo eventuali variazioni. La maxinchiesta costituisce l'esito di un articolato impegno investigativo coordinato dalla DDA Regina e condotto in contemporanea dal ROS e dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e dal gruppo di Locri che hanno condotto articolate investigazioni su un ampio contesto investigativo di respiro nazionale che ha permesso di far emergere uno spaccato approfondito e completo delle dinamiche associative delle più importanti strutture territoriali dell'andrangheta operanti nei tre mandamenti da cui la denominazione dell'indagine in cui è diviso il territorio della provincia di Reggio Calabria. L'indagine è stata eseguita nel luglio dello scorso anno e ha portato dapprima ad un provvedimento di fermo quindi all'esecuzione di un'ordinanza cautelare per diverse decine di soggetti mentre altri rispondono a piede libero. Mandamento ionico è articolato in più parti e comprende ulteriori emergenze investigative che vanno dall'operazione reale integrata dalle informative denominate blunotte del ROS di Reggio Calabria nonché le emergenze di altri procedimenti quali le operazioni denominate Irene e Edera, Intreccio, Arcadia nonché di ulteriori procedimenti riuniti. L'inchiesta tra l'altro ha consentito di ricostruire numerose attività delittuose con particolare riferimento ai condizionamenti infiltrazioni della pubblica amministrazione, degli appalti e di una pressante e sistematica attività istorsiva in danno degli operatori economici del territorio ricadente nel mandamento ionico della provincia Regina.